Una sorpresa natalizia in esclusiva sul sito della Junior. Durante un'intervista girata a Barcellona, il capitano della Nazionale Italiana di Basket Gianluca Basile propone al popolo rosso-blu riflessioni e suggerimenti per interpretare la passione sportiva di quando la propria squadra. Alla fine quello che conta molto più è lo spettacolo, è venire qua con la famiglia, quindi vederlo più come un giorno di festa che non venire lì e insultare tutti, parolacce, insulti all'arbitro, all'avversario. Qui si sta bene, c'è festa con autografi sia da una parte che dall'altra. Credo che la maniera di vedere nello sport alla fine cambia. Al termine un pensiero simpatico per tutti i casalesi. Una cartolina da parte mia a tutta la gente di Cassac e di Ferrara. Un saluto particolare a Fazzi e a Crespo. Ciao! Il video completo Italiano-Barcelona, 4 chiacchiere con Gianluca Basile per scoprire alcune curiosità sullo sport e sul basket in Spagna è scaricabile seguendo i link e le indicazioni su www.asunion.com